Un grande talento, un campione in espresso. Parliamo di Ezio Vendrame che è morto stamani a Treviso a seguito di una grave malattia che lo aveva colpito mesi or sono. Era nato il 21 novembre 1947 a Casarsa della Delizia. Era considerato addirittura il nuovo best. Qualcuno lo ha paragonato anche all'argentino Kempes. Poi è stato tradito dal suo carattere. Ribelle era un anticonformista. Era un giocatore che non rispettava le regole imposte da una società. Nell'Udinese Vendrame ha avuto anche un'infanzia molto difficile. A cinque anni, quando si sono separati i suoi genitori, è stato messo in orfanotrofio. Poi a 13 anni ha avuto la fortuna di far parte del Vivaio dell'Udinese. È entrato a far parte del NAG, Nucleo Addestramento Giovani Calciatori, di cui responsabile era il professor Gino Lizero. Ha fatto poi la trafila nelle formazioni giovanili. Anche il presidente Dino Bruseschi si è interessato a lui. Fu la fortuna del Vicenza e la fortuna anche di Vendrame. In tre anni fece grandi cose e fu considerato uno dei migliori giovani della Serie A. Passò al Napoli, ma non andò d'accordo con l'allenatore Luis Vinicio, altro sergente di ferro. Fu messo fuori rosa, quindi iniziò una felice avventura con il Padova. E nel 77-78 giocò nell'Audace. Lo vidi ancora l'opera dal vivo. Udinese a Udace, qui a Udine, febbraio 78, Udinese 6, era l'Udinese Giacomini, a Udace 1. Eppure Vendrame si meritò non pochi applausi. Chi era vicino a me, seduto in parterra, era un dirigente dell'Udinese, l'avvocato Pettoello, che a un certo punto mi disse, ecco, quando c'è in campo Vendrame, uno spettatore si diverte sempre. Vendrame è il calcio. Poi concluse la sua carriera nel Pordenone e nel Casarsa. A livello giovanile allenò ancora il Pordenone, il Venezia e la San Vitesse.